Se lei potesse tornare oggi al momento della sua laurea, deciderebbe di rimanere in Italia o di andare all'estero per proseguire i suoi studi? Per proseguire gli studi è andare all'estero, negli Stati Uniti. In quale mestiere oggi l'uso della matematica applicata sia più evidente e indispensabile? Escluso il professore, chiaramente. Sicuramente in finanza, importante, e sarà fondamentale in tutto quello che riguarda reti, social network, interazione delle persone tramite reti di internet. Quale nazione, secondo lei, farà il futuro della matematica, se in Europa, nelle Americhe o magari in Asia? Forse in Cina. Per ragioni qualitative e per gli investimenti che stanno facendo. Per esempio la New York University ha aperto un branch a Shanghai, importante, e so di molti studenti cinesi negli Stati Uniti che tornano in Cina per fare matematica. Quindi prevedo che ci sarà sicuramente una crescita molto importante in Cina.